Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Eros Ramazzotti, uno dei cantautori italiani più noti e amati del panorama musicale italiano, la sua carriera è costellata da grandi successi, ma è anche stato spesso al centro dei gossip Vi ricordate di sua figlia Raffaella? È molto cresciuta.Eros Ramazzotti, è senza dubbio uno dei personaggi preferiti dal gossip Nel corso della sua carriera è stato sempre rincorso dai paparazzi a causa della sua discusa vita sentimentale Le donne più importanti della sua vita sono state due Michelle Lumsichere e Marika Pellegrinelli Da quest'ultima ha avuto una figlia di nome Raffaella, avete visto com'è diventata? La somiglianza con il cantante è clamorosa La vita privata di Eros Ramazzotti.Eros, uno dei cantautori italiani più noti e amati di sempre I suoi brani sono amati non solo dal pubblico del nostro paese ma anche all'estero è molto apprezzato Senza dubbio, un personaggio così famoso è stato spesso preso di mira dagli amanti del gossip Punto i fan sono sempre stati curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sulle sue storie d'amore più importanti Senza dubbio la relazione più famosa è quella con Michelle Lumsichere, ancora oggi il pubblico spera di rivederli insieme Dal loro amore è nata nel 1996 Aurora Ramazzotti. Nel 2009 i due divorziano e lui nello stesso anno conosce e si innamora di Marika Pellegrinelli Due anni dopo viene al mondo la loro prima figlia, Raffaella Maria Oggi è cresciuta, sapete com'è diventata? Vediamola e conosciamola meglio Punto Marika Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti.Chie Raffaella Maria, tutto sulla figlia di Eros Ramazzotti, foto Raffaella Maria è nata nel 2011 e ha anche un fratello più piccolo di nome Gabrieo Tullio, nato il 14 marzo 2015 I due sono nati dall'amore tra Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli La coppia però ha deciso di divorziare nel 2019. La separazione non è facile, soprattutto se ci sono di mezzo dei bambini Oggi la figlia del noto cantautore ha 11 anni e avete visto com'è diventata? Rimarrete a bocca appena la vedrete Recentemente è stata paparazzata con suo padre all'uscita di scuola a Milano Eros Ramazzotti e Raffaella Maria Ramazzotti.Degli scatti rarissimi che non capita spesso di vedere Ultimamente Eros si sta dedicando molto ai suoi figli, anche alla più grande, Aurora Ramazzotti Raffaella e Giulio Tullio hanno un'età particolare, dove hanno bisogno il più possibile di una presenza genitoriale vicina e amorevole, infatti, i loro genitori cercano di essere sempre molto presenti Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao